Allora con i Misfits che ci introducono in questa diretta ho l'onore di avere i Pancreas come ospiti Grazie, grazie Una sorpresa che è arrivata proprio oggi che ha già partecipato al dibattito anche precedente che c'è stato sui 20 anni di Genova Ciao a tutti Il nostro amico Marco è uno dei più grandi scrittori del panorama italiano Assolutamente sì, non lo riusciamo a incontrarlo a Milano, dobbiamo incontrarlo qua, a Padova, nella foresta La pandemia ci ha lasciato questo strascico e per fortuna Padova ci riunisce qui finalmente Vero, vero, vero Pino ti ho visto ballare tutta sera, questa sera al nostro concerto, quindi le tue impressioni? No, ma io veramente volevo sapere le vostre, io ovviamente non posso che essere entusiasta Ci sono due posti dove noi ci sentiamo a casa, non vorrei fare una competizione ma una è a Radio Sherwood e l'altra è la festa di Ragion da Durto Noi proprio ci sentiamo a casa nostra, sappiamo di vivere e di suonare in un posto con persone che condividono certi valori, certe idee E ci sentiamo proprio bene, ci sentiamo proprio a casa e siamo veramente sempre molto contenti di venire qua a Sherwood come a donna d'urto E quindi stasera le emozioni erano forti, insomma, eravamo abbastanza sicuri perché sapevamo che ritornavamo a casa Infatti ci siamo sentiti subito a casa, l'accoglienza dei ragazzi è stata fantastica C'era questa titubanza per cercare di capire come qua nel Patavino, in questa zona, venisse preso il nostro show, il nostro nuovo show che abbiamo fatto per questa occasione di pandemia Beh, direi che il pubblico l'ha recepito molto molto bene Cacchio, bellissimo, è stata un'emozione incredibile Ma non dico tanto per fare retorica Tutte le volte noi da quando portiamo in giro questo spettacolo, già dall'anno scorso, rimaniamo veramente sorpresi da come ci accoglie bene la gente Vengono, dopo il concerto, vengono proprio, ci tengono a venire a farci complimenti Più di quando facevamo il concerto in elettrico Tant'è che stavamo pensando forse di non farli più, non sto scherzando Però per dire, evidentemente percepiscono la sincerità, la voglia di reinventarsi, la voglia di fare qualcosa per andare oltre a questa situazione Quindi quando una cosa è vera e sincera, ha questo tipo di approccio Evidentemente la gente lo percepisce e proprio ci tengono a venire a portarci un loro abbraccio Il complimento è una sorta proprio di abbraccio, di solidarietà che ci fa molto piacere E tra l'altro io, come dire, ho avuto il piacere anche di commentare il vostro Io più che concerto l'ho definito proprio spettacolo Perché comunque è un... È una specie di teatro canzone, un po' gaver, un po' i gufi Per non tirar fuori dei nomi che con noi sono probabilmente di un altro livello Non tirarli fuori Di un altro livello, però io ad esempio sono sempre stato un grande appassionato di Giorgio Gaber Per cui non a caso... Diciamo che l'avete riportato un po' Sì, adesso non esageriamo Un incrocio tra Gaber e Jimmy il fenomeno Una roba del genere Esatto Ecco, proprio su questo vostro spettacolo vi volevo chiedervi un po' come era nato Ovviamente è nato in Covid, immagino Quindi... Sì, allora praticamente... Anche questi arrangiamenti che sono... Perché non è un acustico, non è un unplugged È proprio qualcosa di diverso È vero, abbiamo proprio riarrangiato i pezzi Allora, per noi il CIPA è il nostro Soviet Supremo Cioè quando noi cerchiamo di fare qualcosa che va un po' al di fuori Da quello che facciamo solitamente È lui che deve dire sì o no Il fatto che lui insisteva per fare questa cosa in acustico Abbiamo detto che dobbiamo prenderlo in considerazione Eravamo scettici e lui E alla fine abbiamo voluto farlo Poi noi abbiamo un enorme rispetto per noi stessi Ma anche per il pubblico che viene a vederci Per cui non volevamo semplicemente andare lì e rifare le canzoni in acustico Cioè, gli accordi sono quelli, le suoniamo in acustico e tanti saluti Per cui abbiamo cercato di metterci dentro un po' di impegno Un po' di voglia di metterci quello che è il nostro contributo artistico E abbiamo pensato per ogni canzone di cercare di reinterpretarla Di dargli un vestito diverso E nello spettacolo abbiamo cercato di dire Non portiamo semplicemente le canzoni Cerchiamo di costruire qualcosa che abbia un senso Che sia bello da vedere anche da seduti Anche da distanziati E anche con la mascherina E quindi insomma ci siamo impegnati È il fatto di vedere che la gente apprezza molto È il più grande riconoscimento che potevamo sperare di avere In attesa di far sudare i muri Quindi quando si potrà, ricominceremo a far sudare i muri Beh, io in quel caso, come al solito Quando c'è la canzone del Bosco Salgo sul palco e mi lancio giù come sempre Infatti quest'anno Secondo me questa versione della canzone del Bosco Cioè è perfetta Per l'estate che è passata Molto caraibica Insomma comunque il disco Posso consigliarlo Perché insomma alla fine abbiamo bisogno anche noi E comunque prendetelo Perché è la colonna sonora perfetta Per un'estate che non è ancora un'estate normale C'è ancora un po' di distanziamento Adesso stanno anche risalendo i contagi Secondo noi è la colonna sonora perfetta Soprattutto in coda in autostrada Soprattutto in coda in autostrada Perfetto Allora io proprio riguardo un attimo A questo periodo Covid-19 Non parlerò, non vi faccio la solita domanda Cosa avete fatto durante il periodo No, abbiamo avuto un problema Secondo me molto importante Soprattutto noi che lo stiamo vivendo Tra la radio, tra chi sale sul palco E chi sta dietro al palco Quello dei lavoratori e della lavoratrice dello spettacolo Che, come dire Questo periodo in realtà Ha messo a nudo Quello che era un problema sistemico Fondamentalmente Di tutto il mondo del live Fondamentalmente Ecco, io volevo chiedervi un'opinione Proprio su questo Sulla questione dei lavoratori e della lavoratrice dello spettacolo Tu dici la cosa seria Io ti dico soltanto che comunque Quando vado in giro Mi dicono che lavoro fai E il musicista No, no, ma dico il lavoro vero Che lavoro fai Ecco Questo è un po' la visione che c'è E come dici tu È un problema che esisteva già prima del Covid E che il Covid Ne ha messo in luce La fragilità assolutamente estrema È un mondo Di cui non facciamo parte solo noi musicisti Ma ci sono i tecnici Quelli che montano Smontano il palco Le agenzie che vendono i concerti Tutto quanto E sono tutti lavori precari Spesso non ben inquadrati Per cui Anche noi stessi musicisti Non abbiamo un sistema Di versamento dei contributi Adesso non te la faccio lunga Comunque Per cui nessuno mai E raggiungerà la pensione È una cosa molto complicata Per cui nella situazione del genere Diciamo la fragilità di un sistema Che già era fragile prima È emersa in maniera assolutamente incredibile Devo dire che mi aspettavo Che dopo questo periodo Certe cose sarebbero migliorate In realtà non vedo Un grande miglioramento Nel senso che Pensavo e speravo Che fosse chiaro a tutti Che questo qua È un sistema Quello della musica Ma anche quell'alternativa Dove tante persone lavorano Ci sono delle famiglie Ci sono delle professionalità Incredibili Enormi I nostri tecnici Hanno una professionalità incredibile Quindi pensavo Che qualcuno Si sarebbe preso La responsabilità Di portarlo Di prenderlo in considerazione Più di prima Ma anche semplicemente Il servizio La comunicazione Ti faccio un esempio Adesso noi siamo qua A Radio Sherwood Come siamo a Radio Onda Dutto Ma noi abbiamo fatto uscire Questo disco acustico Rispetto a prima Ovviamente nessuna radio Ma mi è passato Il mainstream Ha passato il nostro pezzo Ma non ce l'aspettavamo Ma neanche Nessuna recensione uscita Forse una Non abbiamo fatto interviste Come dire Pensavamo che questo ambiente Questo settore Avrebbe avuto un po' più Di considerazione Al di là dell'alternative In realtà nel mainstream Proprio non gliene frega niente Nessuno E purtroppo Mentre negli anni 90 Noi alternative Per qualche anno Abbiamo vinto la guerra Abbiamo vinto la battaglia Per qualche breve periodo Noi siamo diventati Al dispetto delle major Al dispetto delle raggi Siamo diventati Un movimento che era forse Più forte Più grosso di allora Adesso invece non è più così Per cui È una cosa che va sistemata Piano piano No Prima della pandemia Noi abbiamo fatto un libro Sulla trap E abbiamo registrato Abbiamo intervistato Raccolto delle testimonianze Di questi ragazzini Che erano nati Dopo il 2000 E a un certo punto Io Lo stava facendo un ragazzo Di 24 anni il libro Stava facendo lui le domande Io se lo ascoltavo Perché erano lì in redazione Da noi E a un certo punto Sono stato fuori Ma i concerti No i concerti Questi ragazzini qui Ma musicisti veri Musicisti veri Di quelli che li vedi subito Voi musicisti Fate parte di un'altra dimensione Un'altra categoria Un'altra categoria Della razza umana Effettivamente per loro Il concerto non è fondamentale Gente che stava otto ore Nove ore Sulle macchine Per fare musica Quindi erano proprio Seppur ragazzini Donne uomini E mi hanno detto No A noi non ci interessa Fare concerti Non ci interessa addirittura Hanno detto No Casomai qualche Qualche Showcase Qualche diretta Diretta Instagram Ma questo A me Mi ha veramente sconvolto No E sono contento Che fate una cosa Acustica Perché È È È È una buona Una buona idea Una buona idea Perché Visto che non si possono più Fare grandi concerti Forse non sarebbe più Da fare grandi concerti La versione acustica Rende Rende Fattibile No Noi siamo entusiasti Alla fine Siamo i primi a essere sorpresi Non sto scherzando Cioè quando abbiamo iniziato A fare questa cosa qua Non sapevamo neanche noi Cosa veniva fuori E man mano che riuscivamo a sviluppare le canzoni Le sentivamo Adesso che abbiamo Li abbiamo registrati in studio Con l'aiuto dei nostri due tecnici Dario e Vasi Ma soprattutto Il produttore artistico Che ci ha aiutato È Robbo Bovolenta Ex chitarrista Degli amici di Roland Che adesso è diventata Cintura nera Di strumentazione acustica Man mano che venivano fuori i pezzi Cioè noi eravamo i primi a essere sorpresi Diciamo È proprio veramente bello Ti dà anche in questo momento qua Una sensazione di attaccamento Alla musica originale C'è proprio fatta con gli strumenti di legno Che hanno l'odore di legno Infatti è un po' la battaglia Che si tenta di fare Anche noi che facciamo libri È di difendere la cultura materiale Del libro Del disco Esatto E anche del concerto Del concerto Che non è più che Vedi musicisti piccoli così Ma vedi musicisti È più carne e osta Sì diciamo che il concerto di questo disco qua Mi vengo fuori di merda Cioè nel senso che funziona Sono sempre ubriaco Che mi arrestano Che vado all'ospedale Questo è lo spettacolo La prima volta che era venuta mia figlia Che appunto ha 15 anni così Ho detto La Bianca è un po' romanzata Cazzo ha sentito Il papà l'hanno arrestato È caduto Ha pestato la faccia È sempre ubriaco Però Funziona così Effettivamente ne abbiamo un po' Approfittato di lui Per fare che lo spettacolo sia divertente Comunque è vero Insomma alla fine Suonare con gli strumenti dal vero Abbiamo registrato anche in diretta Ti permette di avere Quell'immediatezza Cioè capito È una cosa più fisica Con le cose che fai con il computer È per forza programmato Quindi è celebrale È pensato Mentre invece lì ti puoi lasciare andare Però volevo confessare una cosa Visto che c'è Marco Non l'ho mai fatto Ah che bello Me l'ha detto Non glielo ho mai detto neanche a lui Quindi devo fare una confessione Ne approfitto qua Che siamo a Radio Sherwood Io mi sono laureato in scienze politiche E ho fatto una tesi Che è il mondo della musica La musica alternativa Nell'area metropolitana milanese Devo confessare Che metà della mia tesi È copiata dal suo libro Costretti a sanguinare Non glielo ho mai detto Quindi è una confessione Che gli faccio adesso Non andare a leggerla Perché ho copiato Gran parte del tuo libro Quindi te lo Mi ricordo Mi ricordo Io lo denuncerei Ti ho intervistato Ti ho intervistato Ma non ti ho detto Che avevo preso Grandi parti pari pari del libro Scusate Volevo farlo Visto che era qua Non glielo avevo mai detto Scienze politiche Libro della Madonna C'è un libro bellissimo Veramente bellissimo Si legge proprio in un attimo È spettacolare Quindi leggete i libri di Marco Perché è veramente Veramente bravo E non sto scherzando Dimmi Pino Dimmi E niente Io volevo chiedervi C'è un genoma Anche noi c'eravamo E niente Quindi volevo chiedervi Un pochettino Dopo vent'anni Cosa è rimasto di Genova Come Come l'avete vissuta Anche voi Questo ventennale Allora Io ti dico la verità Posso dirti la verità Io dopo vent'anni Faccio ancora fatica Mi sto anche emozionando Cioè Faccio ancora fatica A parlarne E a vedere le immagini Io quando vedo Le immagini di Genova Che ci sono stato Cambio canale Faccio veramente Fatica a parlarne Perché è una cosa Che ancora adesso Mi fa male Aver visto E aver vissuto Quei momenti lì E vabbè Faccio fatica a parlarne Comunque vi voglio raccontare Solo un episodio Bello Dentro quel disastro E quella tragedia Di Genova Una cosa che mi ricordo Che mi ha dato forza In quella giornata Noi A un certo punto Eravamo dietro C'era una carica Dalla polizia Arrivavano i fumogini Davanti C'era un'altra carica Dalla polizia A destra c'era un muro E a sinistra Sembrava Un passaggio libero Una strada che andava Verso il mare Non so se si era Anche Marco Si è trovato in quella situazione Per cui distinto Cerchiamo di scappare Verso quella strada lì Che sembrava libera E sentiamo una voce Che ci dice Pancreas Pancreas Dove andate Non andate lì là Non andate lì là E una trappola E infatti là Dietro C'erano vari reparti Pronti per massacrare Tutti i ragazzi Che arrivavano lì Ovviamente sappiamo Com'è andata Tutta la storia di Black Block E una minchiata E questi ragazzi Che ci hanno avvisato A un certo punto Ci dicono Pancreas Ma non ci salutate Non li avevamo riconosciuti Perché erano Avevano il casco La chefe Si tirano fuori Tutto quanto Ed erano Luca Zulu De 99 Post E Marchino E ci siamo abbracciati Veramente Con una certa emozione Ed è stato un momento Veramente bello Forte Che ci ha dato la forza Di arrivare Alla fine della giornata In quale situazione Trovare degli amici Che ti danno un consiglio Che ti abbracciano Vi assicuro È imperdibile È incredibile Quindi volevo raccontarvi questo Marco si puoi aggiungere qualcosa Tu No Insomma Come prima ho parlato Se Genova è stata Un momento Di Grande cambiamento Te l'ho detto Il movimento allora Aveva un piede Negli anni 70 E un piede Nel futuro E in qualche modo Lì Solo adesso Capiamo Che le parole d'ordine Che Allora sembravano Soltanto Patrimonio Di noi rivoluzionari Sono diventate All'ordine del giorno Ancora di più Della pandemia E In questi vent'anni Il movimento Sembrava Forse sembra Sicuramente Per La narrazione Mainstream È finito lì E non è successo Più niente Ma sappiamo benissimo Che non è successo così A partire dal movimento Notav Ad esempio Parlavamo prima E quindi Bisogna stare attenti A A Tutte le istanze radicali Che vengono fuori Dentro luoghi come Sherwood E tutti gli altri centri sociali Che Tra vent'anni Saranno capite Un po' come la musica Punk una volta E come la musica dei punk Speriamo Speriamo che tra vent'anni Saranno capite Tra vent'anni Speriamo 70 anni Che cazzo Però è vero Però è vero Perché Tutta la questione dei migranti Tutta la questione Del protagonismo delle donne Tutta la questione Della Precarietà sul lavoro L'anticapitalismo Diciamo che tutte quelle Tematiche lì Il movimento No Globo Ha cercato di fermare Tutte le problematiche Che adesso sono evidenti E sotto gli occhi di tutti Forse anche la stessa pandemia È figlia di quello Che è successo lì Battaglia anti-ecologista Sono state Portate avanti Però diciamo che poi C'è arrivato l'11 settembre E allora sembra che Tutto sia finito Però L'11 settembre È stato un colpo di qua Un colpo di là Che è stato difficile Diciamo Da reggere Però vabbè Però no Con la pandemia Si è fatto forte Il movimento dell'underground Perché appunto Una volta Basta grandi concerti Piccoli concerti Acustici E nel club dell'underground In 100-150 Ci può anche rastare Si si E tra l'altro Insomma il fatto Che abbiamo Questo background Abbiamo la capacità Di registrare Ma infatti All'inizio All'inizio della pandemia Abbiamo visto Come cazzo funzionava E abbiamo detto Facciamo una tournée Nelle chiese Era l'unico posto aperto Se noi abbiamo detto Leviamo le parolacce Dalle nostre canzoni Cazzo facevamo Un concerto instrumental Non potevamo fare Però siamo sempre in tempo No voglio dire Spieghiamo un'altra Per tirare in mezzo Anche loro Il manifesto del punk A mio parere Soprattutto parlo con Paolo Perché appunto Alla fine lui È pure un secchione Oltre ad essere Un professore musicista Ho copiato Ho copiato da te Un secchione Tu sei secchione Sei quello che copia No ma io Ho scritto La mia vita e basta Pino io e te Possiamo anche andare via Tanto ci capiamo un cazzo Sono a Bernabir No allora Secondo me Il pezzo dei clash Che si chiama Rudy Canfield Che voi conoscete benissimo È un po' il manifesto Del punk Perché dice Rudy È un ragazzo di strada Spacca di tutto È un po' ubriaco Controlla la polizia Rompe la vetrina Spacca il deflettore Però ha sempre ragione Allora questa posizione Del punk Che guarda sempre La periferia E non al centro È la radice storica Del punk Al di là del no future Al di là del Do it yourself Che sono i due grossi Slogan del punk Rudy Canfield Ha questa capacità Guardiamo Alla periferia Ai ragazzi di strada Alle ragazzine di strada Noi siamo Della periferia San Lorenzo di Paraviago Periferia milanese Per cui È un buon consiglio È un gran pezzo Io adoro i Clash Nel 1980 Io sono andato Al concerto De Clash In Questa maggiore A Bologna Famoso concerto Con la maglietta Con la maglietta London Calling Prima di salire Che Clash salissero sul palco Io Insieme ad altri punk Che venivano È la prima volta Che i punk italiani Si incontravano lì Ho distrutto mezza città Lì c'è stata un po' Di contestazione No infatti In fondo In un angolo C'erano questi punk Vestiti Proprio Moicano Giubbotti di pelle Tutto quanto Che avevano questo striscione Cress Not Clash Il Cress Era un gruppo Punk anarchico Di Londra E io Sono rimasto Flesciato Dice Ma che cazzo Cioè Dei punk Che contestano I Clash Il mio gruppo Di star Di idoli E ho guardato Il loro volantino Dicevano Vabbè I Clash Sono venduti Perché L'hanno appena firmato Per la CBS Per la CBS E Però appena Ho sentito London Calling Che parliva sul palco Gli ho mandati a cagare E gli ho detto Mandati a fanculo E sono andato Penso che noi ci hanno dato Dei venduti Prima ancora di firmare Proprio il processo Le intenzioni Non avevamo neanche firmato Comunque i Clash Li adoriamo Li raccontiamo Nello spettacolo Oggi L'abbiamo detto solo In una piccola parte Abbiamo avuto la fortuna Di suonare con Joe Strammer Con i Mescaleros E abbiamo fatto Una giornata intera Con lui Veramente lui Una persona fabilissima Abbiamo mangiato Bevuto Scherzato insieme E mi ha firmato La chitarra Che mi ricordo Aveva questo pennarello rosso Io ho una Gibson L'Expo Il Custom nera Per cui Il pennarello rosso Sul nero Non si vedeva E non sapeva dove firmare A un certo punto Ha detto Ai no Ai no Ai no Gira la chitarra C'è una costina bianca E ha fatto Stellina Joe Stramme Stellina E ce l'ho ancora lì Da allora la chitarra Si chiama La Reliquia E una volta all'anno Sanguina dalle corde Le ho consparso Tutte le cose Per non far andare via La scritta Possibili Immaginabili E ce l'ho lì a casa Insomma Quindi per noi È il massimo Che tu possa aver citato Comunque Una volta Finito il concerto Sono andato Ritornato Da questi punk Crash Not Clash E mi è scoperto Una bomba atomica Nel cervello Perché Avevano ragione loro I Crash Erano una band Della Madonna A me fa molto Mi piace questo argomento qua Mi viene anche un po' Da ridere Perché normalmente Quando faccio le interviste Io faccio una figura Della Madonna Perché parlo Della differenza Tra il punk inglese Che era nichilista Assolutamente nichilista Il no future Non esiste un futuro E il punk italiano Dove invece Rifiutava il futuro Che c'era Però non Con un assunto nichilista Del tutto Ma insomma Diceva Un altro mondo Quello che dopo È diventato Un altro mondo È possibile E faccio sempre il figo Facendo le interviste E parlo di queste cose Ma in realtà Li ho tutte lette da lui Per cui Qua non posso fare Non posso dire niente Mi fa ridere Perché che cazzo faccio Lui si è fatto una carriera Alle tue spalle Cazzo Grazie a quegli studi Di a quella tesi Ho imparato Un sacco di cose da lui Per cui Adesso in realtà Non posso parlare Non dico niente C'è l'originale No ma il punk È no copyright Infatti tutte le citazioni Che fa sui giornali Sono le tue Non è così Però adesso Mi vengono delle cose Da dire Ma mi rendo conto Che non le posso dire Perché sono Un po' derivate Dai suoi lavori A volte si presentava A piacere Paolo Allora non dico niente Lasciamo parlare Stemperiamo Quanto sciocchezza Si dicono Il gruppo Di gente della mia età Che più vi ha influenzato Qual è stato? Ma allora Dal punto di vista Dal punto di vista dei testi Sicuramente I CCCP Sì assolutamente Anche se adesso Vabbè I rough punk Allora I CCCP Nascono Grazie Al trampolino di lancio Della TAC Punk Records Che erano loro Certo I rough punk Se non c'erano i rough punk I CCCP Non esistevano Infatti noi siamo Secondo me Lo dico sempre Siamo sempre un po' Un ibrido Della prima ondata punk Noi siamo un avviedimento Un ponte Di congiunzione Tra la prima Nascendo nell'89 Quella appunto Che dicevi te Del virus E perché noi Come testi Ci siamo molto ispirati A CCCP Comunque avevamo sempre Delle tematiche Molto sociali Cioè siamo figli Di quel punk Che hai spesso Raccontato te Italiano Che voleva Raccontare qualcosa Voleva rappresentare Un nuovo mondo Un nuovo mondo possibile Cercava di portare Delle tematiche Importanti Dal punto di vista musicale Ci siamo ispirati Però al primo Bad Religion Quindi a quel punk americano Che dopo è diventato Famosissimo Anche un po' prima Mai cortato Un po' Un po' Cortato Ne abbiamo beneficiato Però non siamo stati Spazzati via Quando questa cosa Quella non è stata Più mainstream Perché noi siamo I punk Era spunto Anzi Meno la gente Ci cagava Meno i mainstream Ci cagava E più la gente Ci voleva bene E più siamo contenti Insomma I CCCP Hanno fatto dei testi Poi dopo Ferretti È andato sulla via Di Damasco E sappiamo com'è finita Però caspita Era un'ispirazione Continua E va bene Ogni tanto è così Anche i NABAT Sono un gruppo Con cui abbiamo anche Fatto delle cose Con i NABAT Per cui Se vogliamo citare I gruppi di quel periodo Lì sono quelli Con cui siamo stati Più a contatto Più vicini Ichina Un altro gruppo Con cui mi ricordo Un gran concerto Leoncavallo Leoncavallo eravamo Sì Abbiamo fatto i bastardi Con Ichina Perché a Leoncavallo Si iniziava Il primo gruppo C'erano quattro gruppi Il primo gruppo Iniziava la una di notte Figa E il quarto gruppo Cioè era lì per pochi L'ultimo gruppo Alle quattro del mattino Cominciava E allora eravamo noi Ichina E un altro paio di gruppi Nessuno voleva suonare Per ultimo Nessuno voleva suonare Per ultimo E allora Io ho proposto di giocare Alla pagliuzza Le ho prese io le pagliuzze Logicamente Abbiamo suonato per primi È stato bastardo È stato bastardissimo Ma guarda che Noi la nostra generazione Siamo in forma Sono questi qua giovani Anche lui fa concerti Unplugged Io ho visto Guarda che sono i giovani Che sono messi male Io non sono più giovani Quindi Ma proprio diceva tu Tu sei quello messo peggio Hai detto che avevi 26 anni Pino Prima ci hai detto così 26 ci hai detto No 26 mi hai detto Se mi ascoltavo Ai tempi Elettrodomestico Non è possibile È vero Ecco Allora Detto questo Siamo arrivati alla conclusione Di questo Dopofestival Che è stato Insomma Dopofestival Mi ricordo quello di Sanremo L'idea era quella L'abbiamo preso Pino Baudo Pino Baudo Ok Mi hai segnato Per tutta la vita Qua in mezzo Hai detto Dopofestival Mi hai segnato Per tutta la vita E Beh io Ragazzi vi ringrazio Ancora una volta Per essere tutti qua Ti vuoi ringraziarlo Grazie Grazie Per adesso vi ringrazio Dopo facciamo il conto Torniamo bene Grazie Grazie di averci fatto Fare un'intervista Con Marco Filopat Poi con lui ci vediamo In giro per Milano È stato un sogno Di gioventù Questa Voi Intervistare voi E parlare di Pank Con uno dei principali esperti Meglio di così Non poteva andare Grazie 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 a tutti Grazie Buona serata Buonanotte a tutti E gli ascoltatori Di Radio Sherwood Con l'ultimo brano Proprio di Pank Ci vediamo l'anno prossimo Ci vediamo l'anno prossimo Ci vediamo Ciao Grazie Ciao